Non, non sono obsedente È nato così, per una forte passione, vedendo i miei genitori lavorando in salone. Realmente sono nato dentro un salone di parrucchiere. Non ho scelto nemmeno, ho fatto proprio un cammino insieme a loro. Quando mi piace fare qualcosa non lo chiamo neanche lavoro, ma lo chiamo passione. Secondo me il lavoro è qualcosa che non ti piace fare. Perciò questo non è un lavoro, ma è divertimento esprimere la propria personalità, la propria creatività, il modo di essere, lo esprime verso i suoi capelli. Quella è la grande forza mia, è far uscire, valorizzare la bellezza di ogni donna. Diciamo una donna sicuramente originale, non una donna che ama copiare un look oppure voglia di capelli come così, come quella, ma è una donna che ha molta personalità. Perciò vuole trovare e cerca un look suo personale. Una donna ci sceglie soprattutto perché la rendiamo unica. Questa è la password del nostro successo. Il colore mi fa esprimere il mio modo di vedere e colorare i capelli di una donna. Questa tecnica nuova si chiama ombre color, si fa ricreare un po' l'effetto di un capello esposto al sole, un capello baciato al sole, ma lasciando un effetto più elegante, sobrio e naturale. Ovviamente la forza è la cliente che deve uscire fuori, la donna che decide di fare, non il colore, è troppo diverso dal suo carnato. La bellezza secondo me ci nasce, è dentro di noi, ognuno ha la propria bellezza e la propria bellezza si deve ascoltare, si deve ricercare dentro di noi. Il successo viene da una forte passione che uno ha nel proprio lavoro e quello diciamo un ingrediente giusto per avere successo, con tanta passione, determinazione, sacrificio, quello è molto importante e non pensare di avere tutto subito. Mi piace la squadra, ognuno deve fare il suo, mi piace tutto e fanno tutti, ma come la squadra del calcio c'è il portiere, c'è il difensore e quello, anche adottare una squadra nel salone è molto importante. La nostra missione è proprio cercare di dare lo stile che io vedo nelle donne, diciamo, creare un'identità a ogni persona, un'individualità, ecco la parola importante. La chiave della felicità mi allaccio anche ancora al fare quello che ti piace, è l'ingrediente giusto per fare una vita felice.